Tanto grande gioia per il gol, gol al momento decisivo in questa andata, che partita è stata intanto? È stata una partita complicata, una bella squadra, noi l'abbiamo preparata al meglio dagli allenamenti in settimana al riscaldamento È stata una partita bella, combattuta, una bella partita Si può dire che dal punto di vista del gioco sia la squadra che un po' meno si matcha con voi, quella che vi mette un pochino più in difficoltà? Ma essendo qua siamo tutte squadre forti, tutte squadre che cerchiamo di andare in finale Quindi tutte le squadre sono brave nel gioco e sono brave nel stoppare il nostro gioco Quindi penso che anche le altre due squadre in semifinale siano forti quanto questa L'avresti detto all'inizio della stagione che vi sareste trovati in questa posizione? Ma noi lavoriamo tutti i giorni per fare il meglio possibile L'abbiamo detto all'inizio anno che il nostro obiettivo era andare a playoff E adesso che ci siamo cerchiamo di fare il meglio possibile Perché è un'occasione che non si sa se ci potrà ricapitare con questo campionato un po' a no Invece dedica speciale per il gol? La dedica a tutte le persone che mi sostengono, a mia madre, ai miei genitori e a mia nonna